A volte la reazione alle tragedie svela la parte migliore degli esseri umani, nonché il volto più sano e nobile dello Stato. Succede in questi giorni a Monteviasco, splendido terrazzo che svetta sul Luinese e che settimana scorsa è stato sconvolto dalla morte improvvisa di Silvano Dellea, storico manutentore della funivia, rimasto schiacciato dalla cabina in movimento. A causa dell'incidente l'impianto è temporaneamente chiuso e a pagare il prezzo più salato di questo forzato di servizio sono i pochi residenti del borgo, sette anime in prevalenza anziani attualmente tagliati fuori dal mondo. Senza funicolare l'unico collegamento col comune di Curiglia e con gli altri centri abitati è una mulattiera solitamente percorsa da atleti, escursionisti e agili camminatori perché è composta da 1400 gardini. È proprio quello il faticoso sentiero che ogni giorno viene percorso dai carbinieri della stazione di Dumenza in collaborazione con i colleghi del nucleo forestale e del comando di Luino. In assenza della funivia pensano i militari dell'arma a fare la spolla dalla vetta ai piedi del monte equipaggiati con zaini, gerle e beni di prima necessità, in particolare cibo e medicinali. È grazie a loro, alla loro tenacia e alla loro generosità, se un piccolo pezzo di umanità non è stato dimenticato.